Sospesi 9 fra medici e infermieri dell'ASM che hanno rifiutato il vaccino, a rischio anche 16 lavoratori dell'ASP. Ieri intanto 1633 vaccinazioni, risale però il tasso di positività con 36 casi. Intanto in consiglio regionale via libera all'infermiere di comunità. Ha segnato i nuovi dispositivi di protezione individuale in ambito radiologico e sanitari radioesposti a San Carlo. Una nuova generazione di protezione individuale, più leggera e più sicura, a garanzia degli operatori ma anche degli assistiti. La cronaca giudiziaria con il processo relativo all'omicidio di Carlo Antonio Lopatriello, l'anziano massacrato in casa il 7 gennaio 2020. Il PM annunziata a Cazzetta ha chiesto la condanna all'ergastolo per la giovane nipote del 91enne. Presentato stamane in regione, il rapporto 2020 sulla convalida delle dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri. Nell'anno pandemico hanno mollato in 155, ma ben 147 sono donne. Un dato contenuto, ma proprio perché è vincolato alle restrizioni e allo smart working. Lo sport con il basket di serie B, le ragazze della Basilia Potenza, tornano al successo. Contro il cerco, la prova convincente delle leonesse guidate dall'American Hatch e dall'Argentina Basquets. Buon pomeriggio ancora, buon mercoledì a tutti voi e ben ritrovati in studio per l'appuntamento con le news della nuova TG. In apertura all'emergenza Covid scattano i primi provvedimenti per i sanitari. L'asma ha infatti sospeso 9 dipendenti. A rischio invece del potentino ce ne sono 16. Invece sul fronte epidemiologico tasso di positività nuovamente in rialzo. Mentre sono state meno di 1000 le terze dosi somministrate nella giornata di ieri. E allora ci aggiorna Michelangelo Russo. 9 su 2300 nel materano i sanitari sospesi, altri 16 su 2900, quelli invece ancora a rischio nel potentino. Scattano così le prime sanzioni per i medici e gli infermieri non vaccinati dell'azienda sanitaria di Matera dopo mesi di solleciti e inviti caduti nel vuoto. E' stato lo stesso presidente Bardi ad annunciare i provvedimenti adottati come previsto dalla normativa vigente. Nel frattempo con gli hub aperti soltanto in mattinata stenta ancora a decollare la nuova fase della campagna vaccinale. 934 le ultime terze dosi somministrate su un totale di 1633 immunizzazioni effettuate nelle ultime 24 ore. Con la Basilicata ora penultima al 17% di terze dosi effettuate contro il 40% della media nazionale. Novità importante a Bernalda dove dal prossimo 16 novembre sarà attivato un punto vaccinale fisso che diventerà ogni martedì un punto di riferimento per la comunità con 30 somministrazioni previste per settimana. Bisognerà però prenotarsi come preannunciato dal sindaco Tataranno. Risale nel frattempo al 5% il tasso di positività, 36 i lucani che hanno scoperto di essere positivi a fronte degli ultimi 664 tamponi processati, 21 i guariti, 910 i contagiati attuali. Boom di casi a Stigliano dove sono state scoperte 12 positività e dove è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in una classe della scuola dell'infanzia a seguito di una positività riscontrata su un alunno. Tutti negativi invece i 150 test somministrati agli studenti, ai docenti e ai collaboratori scolastici degli istituti superiori di Sant'Arcangelo. Infine 25 ricoverati con un paziente, un sessantenne, in cura in terapia intensiva al San Carlo. Intanto la sanità lucana diventa di prossimità, nasce l'infermiere di famiglia e di comunità insieme agli ambulatori territoriali infermieristici e alle farmacie di comunità. È una delle novità emesse dall'ultimo consiglio regionale che ha approvato unanimemente la proposta di legge della consigliera leghista Dina Sileo. L'infermiere di famiglia si occuperà di prendere in carico e assistere i pazienti cronici ma anche i pazienti in fase acuta e post-acuta che non richiedono cure praticabili nelle strutture ospedaliere. Al malato sarà quindi consentito di essere assistito direttamente presso gli ambulatori territoriali, case della salute o al proprio domicilio. Inoltre, ha annunciato Sileo, saranno prorogati i contratti ed esentati dalla procedura preselettiva gli operatori del comparto sanitario assunti a tempo indeterminato durante l'emergenza Covid. Si parla di una platea di oltre 400 precari. Si tratta, commentano i consiglieri di Italia Viva, Braia e Polese, di un atto doveroso che dà una risposta a tanti giovani. Assegnati invece i nuovi dispositivi di protezione individuale in ambito radiologico ai sanitari radioesposti dell'ospedale San Carlo. Una nuova generazione di protezione individuale più leggera e più sicura, a garanzia degli operatori ma anche degli assistiti. Mara Risola. Leggeri, con alta capacità schermante e lavabili. E' l'ultima generazione dei dispositivi di protezione personalizzati contro i raggi X, camice, collare e occhiali. Assegnati individualmente con un tag agli operatori sanitari dell'ospedale San Carlo di Potenza che operano in ambito radiologico. Si tratta di circa 120 sanitari radioesposti, suddivisi in quattro reparti, a cui è stato assegnato un nuovo equipaggiamento protettivo. Ovviamente, quando parliamo di dispositivi individuali, facciamo riferimento al camice e al collare, per la protezione della tiroide, che sono quelli che normalmente sono presenti in attività di questo genere. Ma in aggiunta a tutti i lavoratori più esposti, stiamo assegnando anche un particolare tipo di occhiale anti-X. Questo perché la nuova normativa in materia di radioprotezione, andata in vigore da appena un anno, ha sostanzialmente abbattuto il limite di dose a cui si può esporre il cristallino dell'operatore e quindi abbiamo cercato di subito intervenire dando una protezione adeguata anche per questo organo sensibile. Ma qual è il loro vantaggio rispetto ai vecchi dispositivi in piombo? Beh, innanzitutto perché sono leggeri e quindi un camice di piombo ha quasi tre volte il peso di questo camice e quindi per un'ora, due ore di sala operatoria ha il suo vantaggio anche a livello proprio fisico. Poi il fatto che questi sono lavabili, si possono disinfettare, mentre quelli di prima assolutamente non si potevano né lavare né disinfettare. Volevo aggiungerci un abbattimento anche della carica microbica in sala operatoria grazie ai camici di piombo. Chiaramente sopra questi camici vanno messi i camici sterili, però avendo un camice già pulito con un abbattimento microbico quasi pari a zero sotto, a maggior ragione sopra c'è una migliore qualità. I dispositivi saranno oggetto di manutenzione costante da parte della ditta fornitrice del service. Il progetto di service che abbiamo fatto con l'ospedale prevede un controllo su base semestrale di tutti i camici, quindi verranno controllati uno per uno per vedere se hanno lesioni che possono essere dannose per gli operatori. E il secondo step poi prevede una lavatrice particolare che laverà i camici di volta in volta, quindi stabiliremo pure dei mensilmente a cadenza mensile, più o meno dei lavaggi per quanto riguarda i camici. Passiamo alla cronaca perché la polizia di Matera ha arrestato in fragranza un 51enne di Montescaglioso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato quasi 120 grammi di cocaina. Sulla ex statale 175 gli agenti della squadra mobile hanno fermato per un controllo un'auto che viaggiava in direzione Montescaglioso, ma all'alt l'autista ha accelerato cercando di dileguarsi. In seguito dai poliziotti è stato raggiunto e bloccato. Alla guida il 51enne era l'unica persona a bordo già conosciuto per precedenti in materia di stupefacenti. La cocaina era nella tasca interna del giubbino e una dose nascosta sotto il tappetino del lato guida. In un locale dell'individuo è sequestrato inoltre il materiale per il confezionamento e 430 euro in banconote, frutto dello spaccio. L'uomo ora si trova in carcere a Matera. Proseguiamo con la cronaca giudiziaria con il processo relativo all'omicidio di Carlo Antonio Lopatriello, l'anziano massacrato in casa il 7 gennaio 2020. Il PM annunziata a Cazzetta ha chiesto la condanna all'ergastolo per la giovane nipote del 91enne. I particolari da Fabrizio Di Vito. Il PM annunziata a Cazzetta ha chiesto la condanna all'ergastolo per Carmen Lopatriello, la 27enne di Marconia di Pisticci, accusata di aver ucciso il nonno Carlo Antonio, 91 anni, colpendolo prima con 11 bastonate e poi con ben 26 coltellate il 7 gennaio 2020. Alla giovane l'accusa non ha riconosciuto nemmeno le attenuanti generiche. È stato un delitto a dir poco efferato, ha evidenziato il PM durante la sua requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Potenza, da parte di una ragazza che temeva di perdere i privilegi acquisiti assistendo il nonno. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe maturato in un contesto caratterizzato da tensioni familiari dovute alle donazioni effettuate dall'anziano. Alla nipote che si prendeva cura di lui aveva già donato una casa e un terreno. L'Opatriello, a proseguito il PM, aveva più volte ripetuto a figli e nipoti che era pronto a revocare tutte le donazioni se non avessero continuato a prendersi cura di lui come più di prima, arrivando anche a pensare di sposare una donna alla quale affidare la sua pensione per farsi assistere nel migliore dei modi. Alla discussione del PM si è arrivati dopo che la Corte aveva giudicato l'imputata capace di intendere e di volere di partecipare coscientemente al processo sulla base della perizia affidata al dottor Andrea Barra. La giovane fu arrestata a sei mesi di distanza dal delitto tramite una serie di attività come intercettazioni telefoniche ed ambientali, rilievi sulla scena del delitto e alcuni filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza della zona si era arrivati alla svolta. L'omicidio, secondo il PM, sarebbe maturato dopo una lite tra nonno e nipote al culmine della quale la 27enne avrebbe iniziato a colpire ripetutamente l'anziano che fu ritrovato in una pozza di sangue nella sua camera da letto. Nella prossima udienza fissata per il 7 dicembre la parola passerà agli avvocati di parte civile e poi alla difesa la sentenza di primo grado a carico della giovane di Marconia è attesa entro la fine dell'anno. E ora andiamo in pubblicità per alcuni istanti a fra poco con la seconda parte del Tg. La ITMSRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiavi in mano di capannoni struttura metallica, il legno lamellare, cemento armato e celle frigorifera d'uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 02 08 806 A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti la tua comodità è in buone mani. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semi lavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, pambasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. Presentato questa mattina in Regione Rapporto 2020 sulla convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Nell'anno pandemico hanno mollato in 155, ma ben 147 sono donne. Un dato contenuto nella nostra Regione, ma perché vincolato alle restrizioni sanitarie e allo smart working. I particolari da Celestino Benedetto. Il rapporto regionale sulla convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri per l'anno 2020 è stato presentato a potenza in una conferenza stampa nella sala in guscio del Dipartimento Politiche della Persona. Si tratta di un documento redatto ogni anno unitamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza e Matera, strategico per programmare interventi significativi per le politiche attive sul lavoro femminile. Tra gli interventi da remoto, quello della consigliera nazionale di parità Francesca Bagni Cipriani e del direttore centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro Orazio Parisi. A relazionare sui dati, con un occhio particolare a quelli lucani, la consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi. In Basilicata nel 2020 si sono dimessi 155 tra lavoratrici e lavoratori, di cui 147 donne e soltanto 8 uomini. Di questi 147 donne sono 109 in provincia di Potenza e 39 in provincia di Matera. Degli 8 uomini, 7 in provincia di Potenza e 1 in provincia di Matera. Il dato è in flessione rispetto allo scorso anno, abbiamo un 40% in meno di dimissioni. Però io ritengo che, considerata qual è la causale per la quale le lavoratrici madri si rimettono, con figli da 0 a 3 anni si rimettono, cioè quello della mancata conciliazione tempi di vita con tempi di lavoro, è evidente che la flessione dipende soltanto dalle misure che ci sono state durante il lockdown, quindi lo smart working e soprattutto il blocco appunto dei licenziamenti. Insomma anche in questo caso il Covid ha fatto da deterrente. Le donne nel 2020 forse hanno potuto conciliare meglio con questa nuova misura lavorativa, però denunciano ancora la mancanza di welfare, la mancanza di sostegno alla maternità, quindi parlo di asilinido, parlo di tempo pieno. Ma quali sono i settori più colpiti? In particolare purtroppo riguardano il settore del terziario, questo dato è in assolutamente aderenza con quello nazionale, sono purtroppo le commesse, quelle che pagano un maggiore scotto, sono quelle che hanno purtroppo dei contratti maggiormente precari e quindi sono quelle che quando si decide in famiglia tra madre e padre chi dimettersi, si sceglie appunto la madre perché è quella che ha una busta paga più leggera e quindi anche un contratto se vogliamo appunto meno tutelato. Ieri pomeriggio sul sito del Lunar pubblicata la graduatoria dei progetti vincitori dell'avviso pubblico per la costituzione di centri contro le discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere. Sono risultate vincenti 37 proposte progettuali da associazioni e comuni operanti e tra queste anche il progetto presentato dall'Arciche Basilicata insieme alla cooperativa Iskra. Felice Morena Arapola, presidente dell'Arciche Basilicata, capofila del progetto, Arciche Basilicata scriverà la storia dei diritti civili di questa regione attraverso la nascita del primo centro contro le discriminazioni fondate su orientamento sessuale e identità di genere. Anche Pia Ciminelli, consigliera nazionale di Arciche Basilicata, è orgogliosa del grande risultato ottenuto. La lunga battaglia dei diritti civili, dice, non si ferma nonostante la debacle del DDL ZAN, anzi riprende con ancora più forza il ritrovato vigore. Nei prossimi giorni ulteriori dettagli in una conferenza stampa dedicata. E adesso invece ricordiamo i cittadini d'iniziativa promossa dal Comune di Potenza in collaborazione con l'Associazione Basilicata Sociale. Nelle tre sedi comunali sono stati attivati sportelli ai quali è possibile rivolgersi per ottenere un prestito agevolato e far fronte alle esigenze di famiglie e aziende gravate economicamente dalla pandemia. Abbiamo incontrato il presidente dell'Associazione Mistrulli che ha illustrato il progetto. Ce ne parla Mariolina Notar Giacomo. Tre sportelli, tre tutor, un prestito agevolato per un importo massimo di 10.000 euro per i nuclei familiari, di 50 per le imprese. Sono i numeri del progetto promosso d'intesa tra il Comune di Potenza e l'Associazione Basilicata Sociale con l'obiettivo di dare una risposta concreta alle difficoltà economiche patite dalle famiglie durante la pandemia o per riuscire a far fronte ai problemi delle aziende con la prospettiva di creare anche nuova imprenditorialità, specie tra i più giovani. Gli sportelli sono attivi dal 3 novembre scorso in tre sedi del Comune con aperture differenziate lunedì dalle 9.30 alle 13 nella sede di Contrada Sant'Antonio Lamacchia dove ad accogliere gli utenti sarà Luigi Iannelli. Il mercoledì sempre dalle 9.30 alle 13 nella sede di Via Nazario Sauro con Giussi Pedano e il venerdì nella sede di Piazza Matteotti alla stessa ora con Sabrina Mazzilli. Abbiamo concordato con il Comune questa iniziativa e lo ringrazio il Sindaco e tutta l'amministrazione. operiamo attraverso l'Istituto Nazionale del Microcredito Sociale che garantisce copertura del fondo di garanzia. Basta informarsi e venire agli sportelli dove ci sono figure professionali che curano questo e gli sportelli sono a Sant'Antonio Lamacchia, a Via Nazario Sauro e al Centro Storico dove troveranno tre tutor. O basta andare sulla nostra piattaforma e lì prendere tutte le possibilità di contatti, di informazione e quant'altro. Il progetto punta in alto e vuole proporre la finanza etica e l'economia solidale quale alternativa alle tradizionali forme di finanziamento. La nostra speranza è creare una rete sociale capace di creare un fondo di solidarietà per aiutare economicamente anche a fondo perduto le famiglie. È un'importante iniziativa per creare la cultura in Basilicata della finanza etica che non è una finanza speculativa ma è una finanza di equilibrio per cercare di attutire le ingiustizie speculative economiche il più possibile. Per lo spazio dedicato alle segnalazioni dei nostri telespettatori vi mostriamo alcune immagini amatoriali girate col telefonino davanti all'ingresso dell'Istituto Comprensivo Gennari di Maratea dal quale ci giunge la denuncia da parte dei genitori degli alunni e della dirigente scolastica Amelia Viterale in merito alla sicurezza della struttura interessata nei mesi scorsi da una serie di lavori che a giudicare anche da queste immagini non sembrano essere definitivi. Da settimane preside e rappresentanti di classe chiedono un incontro al sindaco Stoppelli e all'assessore Trotta per risolvere alcune criticità. Si parla di locali umidi e bui quelli che ospitano i ragazzi delle scuole medie mancano gli spazi per sei alunni disabili costretti a vagare nei corridoi con i propri docenti. Difficoltà anche per svolgere le attività di educazione fisica con una palestra improvvisata all'aperto e anche per i servizi igienici. Una situazione che coinvolge circa 130 tra alunni, docenti e personale scolastico. La speranza ora sta nel nuovo incontro convocato col sindaco per martedì prossimo. Passiamo allo sport con il basket. La serie B, le ragazze della Basilia Potenza tornano al successo. Contro il cerco la prova convincente delle leonesse guidate dall'American Hatch e dall'Argentina Vasquez. Sentiamo Gigi Santopietro. C'era solo un modo per reagire alla sconfitta di Castellammare di Stavia, rialzarsi e lottare. E le leonesse della Basilia Potenza l'hanno fatto con una grandissima prova di forza battendo Cercola 57 a 48. L'inizio della gara non è semplice e le Cercolane trovano il primo vantaggio ma si viaggia sul filo dell'equilibrio. Primo quarto in parità, quota 16. Nel secondo, dopo un primo vantaggio della squadra ospite, sale in cattedra la leonesse americana Maddie Hatch che con tre triple consecutive porta la Basilia avanti alla pausa lunga. Nel terzo quarto, complice un po' di stanchezza fisica, le leonesse cedono il passo alle ospiti mantenendo però un margine di due punti. Nel finale di match esce tutta la forza delle leonesse di chiudere la partita e di prendersi la vittoria anche con un buon margine 57 a 48 alla sirena che conferma la bontà del roster potentino nel momento in cui il coach Luongo può contare su tutte le sue pedine. Ottimo l'esordio anche della playmaker argentina Maitina Basquets, autrice di sei punti. E fino a una notizia di calcio dalla Serie D. Torna in campo oggi pomeriggio. Il Francavilla, la formazione di Mister Ragno sarà impegnata nei 32esimi di Coppa Italia contro la cittanovese. I sinici giocheranno in trasferta, in Calabria in gara secca. Probabile un po' di turnover in partenza. Chi passerà il turno affronterà il Santa Maria Cilento che ha eliminato la Cavese battendo la 3 a 1. Fischio d'inizio fissato alle 14 e 30. Al termine dei tempi regolamentari, se dovesse persistere la parità si andrà direttamente ai calci di rigore. E sempre oggi pomeriggio si giocano anche le semifinali della Coppa Lupo con Vultur Melfi vietata ai tifosi ospiti e Real Senise Elettra Marconia. Invece per la Coppa Tartaglia di promozione, il tricarico Pozzo di Sicar ospita il San Cataldo mentre il Città dei Sassi Matera riceve la Tella. E con questo si chiude qui questa parentesi informativa. Il Tg torna con l'edizione Flash delle 17. Intanto grazie per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.